Presente alla partita di oggi anche Guegue, appena uscito il tuo nuovo album Andre Perla ti volevo chiedere il rapporto tra rap e pallacanestro perché tu citi spesso e hai citato anche in passato giocatori Sì, sì, sempre citato, è una connessione super stretta che va a braccetto da sempre Non sono proprio un esperto però quando posso mi godo le partite Ho anche visto l'NBA, vengo spesso qua quindi bella lì Al campetto come te la cavi Guegue? Malissimo Perfetto, lo so farei professionista allora Grazie